Contrastare la realizzazione del parco eolico di 38 pali che raggiungono un'altezza di quasi 160 metri a 2 miglia dalla spiaggia antistante il castello di Falconara proposto dalla mediterranea Wind Offshore di La Spezia. Il 13 aprile prossimo a Roma presso il Tribunale Amministrativo Regionale è prevista l'udienza che dibatterà il ricorso presentato dal coordinamento NOPEOS formato dai comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento. Ieri incontro presso il Dipartimento Urbanistico a Gela. Le altre attività che stiamo avviando a sviluppo possono trovare un intoppo dal punto di vista proprio promozionale e pratico con questa realizzazione. Questa realizzazione che non si fermerebbe a Gela naturalmente ma è una progressione nell'area più pregiata della costa sud-occidentale dell'isola e questo non lo possiamo assolutamente permettere. Questo andrebbe a intaccare l'economia, non solo l'economia del paese, l'economia che riguarda la pesca, che riguarda i reperti archeologici che sono stati ritrovati tra il mare di Gela e quello di Licata. In virtù anche del fatto che questo parco eolico non abbiamo trovato nulla che possa portare vantaggio per il nostro territorio e per le nostre coste. Auspico una maggiore partecipazione da parte di tutti i comuni, gli enti, ma soprattutto del Presidente della Regione, ad oggi assente in tutti gli incontri e anche in tutte le nostre sollecitazioni. Non possiamo noi come comitati che lottiamo da otto anni contro questa speculazione, non possiamo che ringraziare i comuni di Licata e Gela e purtroppo rammaricarci per l'assenza di tutti gli altri. Cercheremo sempre di pungolare quelle amministrazioni che sono nella sostanza coinvolte ma che ideologicamente sembrerebbe essere poco interessati e siamo fiduciosi che, stante la gravità del fenomeno e stante anche l'importanza dello sviluppo turistico che le nostre aree intendono svolgere nel prossimo futuro, si possa con sinergia affrontare queste battaglie e cercare di, quanto minimo, avere più chiarezza. Per il Comitato Nopeos il parco eolico devasterebbe fondali ricchi di reperti archeologici e non solo, ma creerebbe enormi problemi al transito di Avifà a una migratoria. Consentire la realizzazione di un parco del genere significa veramente devastare tutta la costa che arriva da Gela fino ad Agrigento. Quindi è una battaglia anche veramente di civiltà importante che stiamo conducendo tutti con il massimo impegno. Il giorno 13 dovrebbe chiudersi la fase innanzi al Tar Lazio, dovrebbe perché mettiamo sempre il punto interrogativo perché ci sono stati diversi rinvii fino ad oggi e quindi vedremo il Tar cosa deciderà.